Archeologia ritrovata e anfore antiche tra Marina di Noto e Vendicari. Una quarantina di anfore antiche risalente a un'epoca che va dal I secolo a.C. al I secolo d.C. allineate nella posizione di stivaggio originale sono state ritrovate nel tratto di mare della riserva naturale di Vendicari in provincia di Siracusa grazie a un rilievo fotogrammetrico tridimensionale realizzato dalla sovendendenza del mare in collaborazione con il Capomurro Diving Center di Siracusa. Il ritrovamento è avvenuto a circa 3 miglia dalla costa a una profondità di 70 metri. Le anfore di tipo Richborough 527, una tipologia di contenitore ceramico rinvenuta sia nell'Inghilterra meridionale che nelle isole eolie fanno parte di un importante relitto di una nave da trasporto individuata nel gennaio del 2022 grazie alla segnalazione di due pescatori di Avola che non era stato mai indagato nella sua profondità. Si tratta di anfore piuttosto rari, ha detto l'assessore regionale e bene culturale Francesco Paolo Scarpinato il cui ritrovamento rappresenta un'opportunità unica per approfondire lo studio sia del carico che del relitto. Questa scoperta ci permetterà di acquisire nuove informazioni sulle antiche rotte commerciali e sui traffici di merci preziose nel Mediterraneo. I prossimi studi verificheranno infatti se le anfore siano della stessa tipologia di quelle ritrovate negli anni 90 all'Ipari legate al commercio di allume, un minerale la cui estrazione è documentata nell'antichità. Se questa ipotesi venisse confermata, il ritrovamento arricchirebbe le conoscenze sulle antiche tratte dei commerci nel bacino del mare Nostrum. Grazie a tutti.